il fantasma del molo di north somerset sono stati molti gli avvistamenti sul molo vittoriano di un fantasma che comparirebbe all'improvviso apparire una forma umana ed appoggiarsi sul molo molte persone credono che quello spettro appartenga a un pescatore morto diverso tempo fa per ignote circostanze i cittadini di north somerset hanno deciso di far luce su questi accadimenti un pescatore alle 4 e 30 del mattino parla di aver visto improvvisamente un uomo compagnire sul molo inizialmente lo credette un suo amico al che decise di avvicinarsi ed una volta raggiunto rimase di stucco lo vide letteralmente sparire insieme alla nebbia alcuni pescatori poi hanno visto la figura scomparire al cancello del molo senza attivare la luce di emergenza e oltrepassare le porte che erano chiuse un ragazzo poi avrebbe visto comparire dal nulla il fantasma che iniziò a borbottare da solo sono state fatte diverse indagini sul campo e tutti hanno dimostrato anomalie come compaiono in queste foto e addirittura sono state registrate alcune voci attribuibili allo stesso spettro misterioso